Paolo hai vinto la bellissima tappa l'azzo ieri, adesso hai ambizioni di classifica o come sempre sarai sempre a completa disposizione dei tuoi capitani? No, il mio obiettivo era vincere la tappa, adesso sono terzo in classifica ma io non sono qui per vincere il giro. L'obiettivo se riesco è vincere una tappa, però l'obiettivo principale è riuscire a vincere il giro con Roma. Io sono sicuramente il primo piano per aiutare. Con la Veccea ti sei scoperto un vincente, visto che l'anno scorso e quest'anno hai vinto le due uniche due corse e tre professionisti. Sei come il buon vino che è migliore di cosi anni o il livello del giro è un po' sceso? No, beh sai, ho sempre lavorato con gli altri, tanto sempre in massimo con gli altri. Ora ho avuto il giorno più libero e ho fatto la mia corsa e mi sono scoperto vincente. Alla fine ho sempre avuto delle buone due dodi di scalatore e adesso mi sto esprimendo per quello che sono. Grazie Paolo.